Torniamo ad un passaggio che hai evidenziato in precedenza, quando si riferiva soprattutto al campionato Ander-19. Le lancio una provocazione, Avvocato. È una pallavolo calabrese poco competitiva questa? Ma senza dubbio è diventata poco competitiva, perché in passato non era così. In passato, io parlo di 10, 12, 15 anni fa, non era così. In passato c'erano tante società, nella provincia di Reggio c'era io. Dovremmo andare a ritrosso nei tempi, non vale la pena, ma noi abbiamo imparato molto dalla Ionica Grumi, da quando ero giovane. Abbiamo imparato dal Palmi del professore Tigani, buonanima. Abbiamo imparato dal Paola di Perrotta, abbiamo imparato dalla Mezza, quando la pallavolo si faceva alla Mezza. Da Cosenza, dalla Milani, dall'Eurobruzio. Tutte queste squadre ormai non ci sono più. Sono scomparse queste squadre. Io non so perché sono scomparse. Non è solo una questione di soldi, è una questione anche di impegno, di organizzazione. Io mi auguro che in futuro queste società possano riprendersi. Qualcuna sta ripartendo. In provincia di Reggio c'è Cinque Frondi che sta facendo belle cose. Alla Mezza ci sono queste due squadre, già è una cosa molto strana che ci siano due squadre e se ne potrebbe palesare una terza. Queste cose non vanno. Bisogna, secondo me, in certi casi unire le forze, andare avanti, organizzarsi e altro. Però, ti voglio dire, poi ci sono anche le cose negative. Per esempio, ci sono molte società che lavorano solo sulla carta e per cui non hanno giocatori. Ne sappiamo tanti. Non facciamo nomi. Devono iscriversi ai campionati per evitare le multe. Tante volte qualcuno ti propone pure di fare i referti. Io gli dico non fate falsi per cortesia. Lasciate stare, queste cose non ci appartengono. Queste sono delle cose che non vanno. Non vanno perché non ci sono giocatori. Non vanno perché non ci sono allenatori, non ci sono dirigenti. E debbo dire che bisogna ripartire. Bisogna avere le idee chiare. Soltanto in questo modo si potrà fare palla a volo. A palla a volo, principalmente, tutti parlano di settore giovanile. Si riempiono la bocca i settori giovanili. Va a farle il settore giovanile. Va a far esordire ragazzi in serie A o in serie B. A parole. Siamo tutti bravi col settore giovanile. Poi bisogna vedere i numeri e bisogna vedere i risultati che tu hai. Certamente bisogna fare un salto di qualità nella nostra regione. Bisognerebbe cominciare ad eliminare queste società che vengono costituite solo per i voti. E poi non fanno nessuna attività. Ne abbiamo tantissime. Anche nella nostra provincia ce ne sono a Giosa. Mi pare che noi abbiamo 16 o 18 società. Non giochiamo mai con queste società. Non sappiamo nemmeno se esistono. Non fanno nemmeno campionate. Questo è un grosso errore. Il secondo è che bisogna ripartire. Bisogna ripartire con persone capaci. Bisogna ripartire con persone che capiscono di palla a volo e non stanno solo dietro la scrivania. Persone che vivono il campo. Persone che vivono la responsabilità di organizzare una squadra. Persone che abbiano anche delle esperienze in passato. Al momento io penso che siamo in ritardo. Noi siamo a fine aprile. Ancora non sappiamo nemmeno chi è il selezionatore regionale della Federazione Calabrese. Un po' che uno. Un po' che un'alcio. Poi ritorna uno. Poi ritorna un'alcio. Io mi auguro che al più presto venga nominata. A proposito, pare finalmente che avanti aeri sera a San Pietro Ammaida sia stato... Abbiamo trovato la quadra, come diceva Umberto Boss. Lo abbiano trovato. Che si metta a lavorare. E che in questi pochi mesi sarà molto difficile, francamente, perché c'è il torneo fra un mese e mezzo. Le altre regioni iniziano a lavorare a settembre. Solo che, Avvocato, e chiudiamo in maniera breve, è un problema che ci portiamo indietro da troppi anni. La Calabria che inizia a lavorare troppo tardi con le rappresentative, con tutte le situazioni che poi devono portare ai veri campionati. E non riusciamo in qualche modo ad emulare le cose positive delle altre regioni, anche del sud, a partire da Puglia e Sicilia. Non voglio fare polemiche. L'unico momento in cui la rappresentativa calabrese, ma non me ne vogliono gli allenatori, i dirigenti che organizzano, l'unica volta che è andata bene è stata nelle finali di Rossano dove ci siamo qualificati quarti. Però avevamo tutta la nostra struttura. Avevamo otto giocatori nostri, avevamo la struttura medica nostra, l'allenatore nostro, lo scoutman nostro, il fisioterapista nostro, il preparatore. E' qui, e là qualcuno, io feci una battuta, qualcuno se l'ha presa. Perché io feci un commento, ho detto io, la Tonno Calle è per arrivata quarta. E' stata la verità. E se la sono presa. E quindi dopodiché io non ci ho più parlato. In tutte le altre occasioni mi pare a me che i risultati sono stati negativi. Ma sono stati negativi perché ci vuole un'organizzazione diversa, ci vuole gente che abbia a che fare realmente con la pallavolo, che sappia come si organizza una squadra. Poi c'è chi fa politica, fa politica. Chi fa la pallavolo deve essere uno che la sappia fare, che abbia esperienze, che abbia vinto titoli, che si sappia mettere in discussione, che si assuma delle responsabilità. Basta con queste divisioni. A quello gli tocca una cosa, a quello gli ne tocca un'altra, a quello un'altra. Da vecchio Manolo Cencelli della Prima Repubblica. Questa è la politica che poi comporta come conseguenze queste problematiche che noi vediamo, con gente anziana in campo, giovanile, campionati che non si fanno, eccetera. Purtroppo è difficile, mi rendo conto che sia difficile. Speriamo bene. Io mi auguro che ci sia un cambiamento e che effettivamente persone che sappiano, che sappiano lavorare, che ci mettano la faccia e che non obbediscano a chi ti comanda, no. Non devono obbedire a nessuno. Devono avere la piena autonomia delle loro scelte. Altrimenti si mettono da parte e non sono in grado di farlo. Grazie all'Avvocato Michele Ferraro, Supervisore della Tonno Callipo. Alla prossima. E grazie ai nostri ragazzi.